Buonasera e benvenuti a tutti alla terza tappa di DigiTalks. Io sono Martina Lodi e lavoro all'interno dello staff Industrie Culturali e Creativa di Arte, la società consortile della Regione Emilia-Romagna, i cui soci sono la Regione, tutte le sei università che hanno sede qui nel nostro territorio, l'Unione delle Camere di Commercio e i centri di ricerca CNR, Enea e INFN. Questa terza e ultima tappa, almeno per il 2020, dei DigiTalks è suddivisa nei due appuntamenti di oggi e di domani e si inserisce in un percorso di approfondimento sul tema di arte, scienza e tecnologia promosso dal progetto europeo Region Arts, di cui Arter è partner. Questi incontri che abbiamo organizzati sono resi possibili anche grazie al contributo di due dei cluster della nostra Regione, il cluster Create e il cluster Innovate e il laboratorio aperto Casa Bufalini, assieme a percorsi erratici. Casa Bufalini appunto che ci sta ospitando virtualmente oggi e che ci ha aiutato a strutturare il programma di questa tappa. Voglio citare anche due laboratori di ricerca industriale specializzati sui temi di interesse delle industrie culturali creative che fanno parte dei soggetti coinvolti all'interno di questa iniziativa e che hanno partecipato all'evento madre da cui sono partiti a ottobre i DigiTalks. Sono nello specifico il laboratorio Cric, il centro di ricerca per l'interazione con le industrie culturali creative dell'Università di Bologna e di Acamore, il centro interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities dell'Università di Modena e Reggio. I DigiTalks sono ideati e curati dal critico e curatore Marco Mancuso che li modellerà in collaborazione con Adiacenze che ci ospiterà sempre virtualmente e purtroppo domani. Perché Arter ha promosso questo ciclo di incontri? Il format che è stato studiato da Marco Mancuso ha l'ambizione di stimolare uno scambio tra arte contemporanea, ricerca tecnologica e scientifica e anche processi produttivi con l'obiettivo di mettere a confronto da un lato i nostri attori dell'ecosistema dell'innovazione regionale cioè i laboratori di ricerca, i centri per l'innovazione e le imprese e ovviamente fanno parte delle reti che Arter coordina e dall'altro alcuni tra i più importanti artisti e designer italiani che applicano le nuove tecnologie alle arti. Favorire appunto il dialogo tra questi soggetti per noi è interessante da moltissime prospettive ed è funzionale a generare nuove riflessioni su contaminazioni, su possibili collaborazioni che possono orientare all'innovazione in diversi settori. Prima di lasciare la parola a Marco Mancuso per iniziare con la terza tappa di DigiTalks vi ricordo che è possibile utilizzare sia la chat di Zoom per chi sta seguendo da Zoom questa iniziativa e sia i commenti di Facebook per portare ovviamente all'attenzione dei relatori le vostre domande e le vostre riflessioni. Io ringrazio ancora una volta tutti i partner e tutti i relatori che Marco Mancuso presenterà tra pochissimo e lascio a lui la parola per cominciare questo incontro. Sì, ha aperto il microfono. Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie a Martina Lodi a tutto il gruppo che lavora dietro Arter con Arter per darci la possibilità di essere qui oggi anche se in forma virtuale cosa comunque non scontata perché ci siamo tutti dovuti un pochino anche riorganizzare purtroppo a causa della situazione che stiamo vivendo quindi anche per quanto mi riguarda rinnovo purtroppo il rammarico di non essere fisicamente in presenza presso appunto Romagna Tech questa era la tappa diciamo così di Cesena la terza ed ultima tappa per questo ciclo iniziale diciamo anche un pochino sperimentale che segue appunto questa mia idea curatoriale di mettere un pochettino in contatto ecco alcuni artisti sono stati tre terza adesso vado a presentarlo adesso tra poco che si occupano appunto in Italia da tanti anni del rapporto diciamo così tra arte, tecnologia e scienza e dargli sostanzialmente anche una possibilità o una modalità insomma di dialogare da un lato con il mondo dell'industria e con i laboratori di ricerca dall'altro appunto con il mondo dell'arte contemporanea che poi come dire molto spesso è il loro mondo di riferimento perlomeno anche il mio mondo di riferimento perché appunto poi io appartengo a quello lavoro come curatore, come critico e mi impegno insomma su ricerche e su questi temi da tantissimi anni tramite la mia piattaforma Digicult ho pubblicato un libro che tratta appunto anche questi temi nel 2018 con Mimesis Edizioni e l'incontro di oggi è il terzo ripeto appunto di questo ciclo iniziale e ciascuno dei tre incontri è stato per chi ci ha seguito insomma dall'inizio è stato focalizzato anche in un certo qual modo in termini mediali su una tecnologia in un certo qual modo specifica che derivava per l'appunto sia dall'ambito di ricerca appunto dell'artista, del designer che è stato invitato nell'arco dei tre incontri e per l'appunto un centro universitario oppure appunto un centro di ricerca oppure appunto delle aziende o degli studi insomma di creativi che utilizzano appunto per le stesse tecnologie in un certo qual modo e anche gli stessi linguaggi di ricerca applicati appunto in altri contesti e l'ambizione quindi che ha funzionato e sono convinto funzionerà anche in questa coppia di incontri quindi quello di oggi e quello di domani sempre alle 18.30 sempre su questi canali ha l'ambizione per l'appunto di creare dei punti di dialogo che possano essere come dire nutrienti per entrambi i soggetti quindi mettere a confronto l'artista con il mondo dell'azienda e dei laboratori di ricerca perché possa fornire anche degli spunti di riflessione e anche delle operatività che sono state sviluppate durante appunto il suo percorso artistico durante il suo percorso di ricerca così come al contrario far capire anche in un certo qual modo ai nostri mondi dell'arte contemporanea che questa generazione insomma di artisti hanno come dire delle componenti dei bagagli anche di utilizzo di strumenti che sono strumenti che hanno un impatto comunque molto forte, molto presente nella società contemporanea di questi ultimi anni anche il momento storico che stiamo vivendo insomma un pochino lo dimostra e per cui l'incontro di oggi è focalizzato diciamo così sull'idea di intelligenza artificiale già quando abbiamo fatto degli incontri un po' preparatori insomma queste due giorni in realtà questo termine intelligenza artificiale ci è sembrato subito molto stretto in realtà l'idea è appunto quella di ragionare comunque sviluppare un discorso sui sistemi di automazione ecco in senso più ampio che stanno diventando appunto gradualmente è un percorso che già da un punto di vista mediale e tecnico stanno facendo appunto da un po' di anni stanno diventando sempre più intelligenti per l'appunto e stanno come dire sviluppando delle nuove modalità di interazione appunto tra uomo e macchina che hanno un impatto crescente chiaramente nelle nostre vite e nella nostra società come detto appunto l'idea è di capire come i linguaggi dell'arte in un certo qual modo siano in grado di intercettare per l'appunto dei possibili nuovi paradigmi e come possano evidenziare per l'appunto delle nuove modalità di relazione tra diciamo così diverse forme di intelligenza ecco intelligenza biologica diciamo così intelligenza umana e altre forme di intelligenza che possono per l'appunto provenire sia dal mondo della natura dal mondo degli animali che magari poi un aspetto che vedremo di più domani ma anche e soprattutto appunto dal mondo dal mondo delle macchine dal mondo dei computer nell'idea anche della necessità anche di ne parleremo molto questa sera di sviluppare anche delle nuove forme di narrazione attorno all'idea di intelligenza artificiale far fruire anche in maniera sempre più semplice se vogliamo e anche sempre più fluida l'idea e il significato anche che cosa significa lavorare con forme di intelligenza per l'appunto computazionali per aprire anche a nuovi paradigmi se vogliamo quasi filosofici e in un certo qual modo anche etici per una visione appunto del mondo che sia sempre meno antropocentrica se possibile sempre più aperta ok ad un dialogo interdisciplinare per l'appunto con altre specie altri modelli di intelligenza che non siano solo necessariamente organici e che possano quindi come dire suggerire anche dei possibili modelli di sviluppo sostanzialmente della società nella quale viviamo ed è idea mia di Arter insomma che il rapporto appunto anche con quei soggetti che su queste tecnologie fanno ricerca sia importante e saluto quindi gli ospiti gli ospiti di oggi in rigoroso ordine di apparizione saluto Stefano Torelli che è manager area trasferimento tecnologico e commerciale appunto di Romagna Tech e Casa Bufalini saluto Emilio Emilio Vavarella che è artista ricercatore che si occupa fondamentalmente di in tante forme differenti ne vedremo un po' oggi anche un po' domani quindi anche con tante restituzioni differenti mediali differenti si occupa del rapporto appunto dell'impatto che hanno le tecnologie in senso abbastanza ampio in particolare le tecnologie di automazione le tecnologie cosiddette per l'appunto intelligenti sulla nostra soggettività e sul concetto appunto anche ampio complesso di creatività non umana e ringrazio appunto Silvia Montanari che è qui con noi di One Sistemi e di parte anche di Italian Consulting che si occupa poi ce ne parlerà probabilmente meglio lei insomma di digitalizzazione anche di come dire di informazioni ecco di processi aziendali e io mi taccio perché siamo almeno per ora perché appunto siamo in tanti staremo insieme un'oretta e mezza quindi fino più o meno alle otto come ha suggerito Martina c'è una chat aperta l'incontro vuole essere come gli altri precedenti quanto più informale possibile quindi se durante appunto ciò che diranno gli ospiti durante insomma anche la nostra conversazione avete delle domande scrivetele tranquillamente in chat troveremo appunto un momento poi per troverò un momento per riportarle riportarle agli ospiti però insomma vogliamo tenere l'incontro quanto ripeto più fluido e dialogico possibile in questa propria parte do la parola insomma a Stefano Torelli ringraziandolo di essere qui con noi buonasera a tutti carico un attimo la presentazione allora innanzitutto ringrazio Arter Marco per questa opportunità in quanto noi riteniamo che il colluvio tra comunque il mondo della tecnica e della scienza che in qualche modo mi trovo a rappresentare e il mondo dell'arte siano fondamentali per trovare ispirazioni e idee che poi si possono tramutare in vere innovazioni di processi e parto portandovi saluti di Casa Bufalini e percorsi erratici che in qualche modo rappresento tutti e due perché come diceva Marco io sono il coordinatore di Casa Bufalini che fa parte della rete dei laboratori aperti della regione e tra l'altro specializzato diciamo verticalizzato sul tema dell'industria culturale creativa e quindi facciamo attività sia di divulgazione e sperimentazione e anche supporto a start up start up nell'ambito del settore culturale creativa il saluto di percorsi erratici di cui sono vicepresidente una rete che esiste da diversi anni di imprese che ha un modello piuttosto innovativo e di fatto queste imprese collaborano tra di loro per generare nuove idee e quindi trovare poi percorsi per portare avanti nuove idee di business quindi una rete che non offre servizi esterni ma una rete che proprio vive per condividere delle esperienze e delle idee e piuttosto abituata a eventi di questo genere quindi è già successo più volte che abbiamo condiviso abbiamo unito attività di scienze e cultura nelle sue vari aspetti proprio perché ci siamo resi conto che le esperienze che vengono fuori le idee sono idee molto poi validi e spendibili nel mondo e d'ora in avanti invece vi porterò l'esperienza di quella di Romagna Tech che è un laboratorio di ricerca industriale nell'ambito della rete alta tecnologia che ha come scopo quello di fare da ponte tra quello che è il mondo della ricerca scientifica nei suoi vari ambiti verso le imprese per poter attivare processi di innovazione di prodotto quindi di fatto io vi porto un'esperienza di strutture che sono collettori di bisogni idee aspettative domande quindi sostanzialmente noi siamo rivolti sia alle imprese che con Casabufalini anche la cittadinanza soprattutto siamo quei soggetti che devono fornire la prima indicazione per supportare il processo di acquisizione di comprensione di alcune tecnologie nella fattispecie quando parliamo di intelligenza artificiale ci troviamo a che fare con una tecnologia che è già in mezzo a noi è già attorno a noi è ovunque poi in alcuni casi ce ne rendiamo perfettamente conto come ad esempio nell'analisi delle immagini piuttosto che nei sistemi di guida autonoma ma ci sono anche applicazioni che a noi sono un pochino più occulte tipo tutti gli strumenti che attualmente i principali politici i partiti politici usano per identificare il sentiment della cittadinanza e cose di questo genere quindi ci sono meccanismi più o meno occulti che ormai ci circondano siamo dentro l'intelligenza artificiale però questo ancora non è così non è così automatico che venga per le imprese comprenderle quindi quando noi andiamo presso l'impresa spesso ci capita la domanda ma noi possiamo utilizzare l'intelligenza artificiale e quindi si inizia a discutere il passaggio successivo è sicuramente ma quanto costa come possiamo procedere poi quando si inizia ad andare nel dettaglio chiaramente viene fuori che applicare l'intelligenza artificiale è possibile ma poi non è sempre così semplice come poi si trovano delle altre emozioni diciamo un po' contrapposte contrastanti quindi da casistiche in cui c'è uno stupore completo verso la potenzialità della cosa e altre condizioni in cui invece si rimane abbastanza perplessi perché l'intelligenza artificiale non ha risulto il problema questo perché come insomma come è noto l'intelligenza artificiale non è sviluppata allo stesso modo in tutte le aree in tutti i settori per cui ci sono applicazioni in cui l'intelligenza artificiale sta dando risposte veramente importanti ed efficienti e altre dove ancora invece lo spazio di sviluppo è aperto insomma quindi dove ancora alcune cose non possono essere fatte quindi quando noi andiamo a proporre un progetto di intelligenza artificiale quello che cerchiamo di fare è quello di aiutare l'impresa a calibrare le aspettative con gli obiettivi reali raggiungibili e quindi trovare un break event con i possibili costi e con i tempi e tempi di sviluppo e successivamente anche quello di scegliere un approccio e la tecnologia migliore per fare questa cosa e ormai le tecnologie sono tantissime le modalità di approccio sono tantissime quindi adesso non è questo il momento in cui entrare nel dettaglio di queste cose però il mondo è veramente articolato adesso noi parliamo di intelligenza artificiale per raggruppare un universo di metodologie di tecnologie e di approcci per intenderci meglio su cosa succede quindi quali sono un po' le aspettative che si possono avere io vi ho portato tre esperienze che noi abbiamo avuto sull'intelligenza artificiale piuttosto diverse una dall'altra e con diciamo risultati piuttosto di fede diversi il primo esempio che vi porto è un sistema per l'analisi tensionale delle condotte sui fronti franosi quindi stiamo parlando di condutture acqua, gas qualunque tipo di conduttura fognature che per ragioni morfologici devono attraversare delle zone franose quindi vengono interrate in zone franose chiaramente queste zone franose si muovono e a un certo punto creano delle forze talmente alti sulla condotta che questa si spezza e a questo punto c'è da fare l'intervento se è gas assolutamente in emergenza se acqua un po' meno però insomma comunque sono interventi da fare in emergenza allora il tema che qui abbiamo affrontato è quello di trovare un sistema predittivo che possa in qualche modo anticipare e quindi segnalare la rottura della condotta questo è stato possibile farlo tramite l'analisi di immagini satellitari e alcune informazioni derivanti da sensori installati su alcuni punti del terreno e quindi si è riuscita ad ottenere una una stima probabilistica della tensione che ci può essere sul tubo ovvero come vedete nell'immagine delle aree colorate cioè quindi attenzione se si dovrebbe se devi fare un intervento vallo a fare nelle aree rosse perché lì c'è una maggiore probabilità di rottura quindi chiaramente questa tecnica è derivata da un progetto a grandi investimenti quindi qui stiamo parlando di un grande investimento ha portato comunque a un risultato che nelle aspettative comuni potrebbe sembrare poco perché uno si aspetta va bene adesso mi dici qual è la forza sul tubo no non ti posso dire qual è la forza sul tubo ti posso dire che in quell'area probabilmente la tensione è aumentata ad un certo livello quindi ti dà un ordine di priorità sugli interventi chiaramente questo è diciamo un'aspettativa che il cliente a un certo punto ha capito molto bene ha accettato comunque perché stiamo parlando di un grande cliente e il valore aggiunto di questa cosa è che un uomo non può fare questa operazione cioè qui non è che andiamo a sostituire l'operazione di un uomo cioè quello può fare una persona installare tanti sensori strumentazioni sul posto stare lì monitorare quindi non è un'operazione fattibile da un uomo quindi riusciamo a fare un'operazione che apparentemente dà un'informazione non precisa ma che di fatto un uomo non potrebbe ottenere una seconda applicazione molto più diciamo semplice da spiegare anche da intuire è quella di ricercare dei difetti su un gruppone di cuoio che viene utilizzato per fare le suole delle scarpe c'è un problema stiamo parlando di suole di alta gamma quindi questa qualità del cuoio deve essere eccellente e prima di andare a tagliare quindi le singole suole c'è un operatore che fa il controllo a qualità e con dei segnetti tipo quelli che ho messo nell'immagine va a identificare i difetti benissimo siamo riusciti qui a fare un'applicazione tramite sistemi di visione legati all'intelligenza artificiale che in qualche modo va a individuare questi difetti e chiaramente questa applicazione non è perfetta cioè ha ottenuto dei buoni risultati ma non è perfetta innanzitutto non funziona su ogni tipologia di cuoio ci sono tipologie di cuoio particolari per cui con finiture particolari per cui questa applicazione non è non è affidabile e comunque diciamo che a livello diciamo di mass production quindi della maggior parte della produzione questa soluzione è comunque stata in grado di ottenere dei risultati quindi una qualità di attività paragonabile a quella di un uomo qui ho specificato nel medio periodo perché se consideriamo più turni sul lavoro di più turni la macchina dà un risultato paragonabile se invece ci mettiamo in competizione con un uomo iperconcentrato che fa questo mestiere per poco tempo la macchina perde evidentemente c'è comunque un limite oggettivo tecnico che non può superare certe cose ma comunque vince l'affidabilità e la ripetitività di un sistema di questo genere che invece è un uomo stanco però ad un certo punto non può più mantenere concludo con un'ultima esperienza ecco tornatemi sulla precedente qui stiamo parlando di un investimento comunque abbordabile medio e abbordabile da una piccola media impresa quindi non stiamo parlando di cifre strepitose quindi una cosa possibile per quasi qualunque impresa infine un'ultima applicazione su cui stiamo lavorando proprio in questo momento è un semplice sistema di check-in praticamente una persona adesso qui ho messo un albergo in realtà l'applicazione non è per un albergo ma per motivi di end in non posso specificare qual è l'applicazione quindi sostanzialmente la persona vocalmente dà nome cognome e alcune informazioni tecniche che servono per l'ingresso questa è un'applicazione a bassissimo impatto bassissimo impatto economico e di processo perché qui siamo riusciti a trovare delle funzionalità di intelligenza artificiali di riconoscimento di linguaggio evolutissime per cui l'attività sperimentale è stata praticamente nulla cioè dalla scelta tecnologia allo sviluppo dell'applicazione è passato pochissimo tempo e niente io con questo ho concluso quindi lascio ringrazio per lo spazio e niente lascio la parola ai redattori successivi in realtà Stefano ti volevo chiedere una cosa che poi sarà una cosa su cui parleremo di cui parlerà appunto un po' anche Silvia se come dire in due parole insomma se si può che tipo di difficoltà incontri ecco nei termini di spiegare ecco anche un pochettino potenzialità c'è anche un po' smitizzarne da un lato diciamo le potenzialità che ogni tanto vengono così sovrainterpretate dall'altro anche appunto c'è un termine di budget per esempio cioè delle possibili applicazioni che siano fattibili spesso anche da spiegare ai soggetti esterni sì questo è il tema il tema quotidiano quindi come dicevo prima ci sono mi capitano veramente di tutto soggetti che proprio non hanno ancora diciamo intuito come l'intelligenza artificiale può entrare nella loro attività e quindi lì si parte proprio da Medeva si va a raccontare un po' la storia mi è capitato più volte di avere invece domande con aspettative elevatissime che abbiamo dovuto subito fermare perché quando una piccola media impresa di 40-50 addetti mi chiede certe cose e conoscendo il mondo vuol dire che mi sta chiedendo un progetto da qualche centinaia di migliaia di euro e dai risultati incerti per cui in quel caso cerchiamo di ragionare e quindi far capire che l'intelligenza artificiale sì è potente non è potente in egual modo in tutti i settori e quindi insomma bisogna portarlo insomma come dicevo prima a trovare un giusto compromesso tra obiettivi e aspettative e mentre in altri casi tipo l'ultimo che vi ho fatto vedere quello sull'audio la risposta è stata è incredibile perché praticamente non sbaglia quasi mai insomma salvo pronunce estremamente distorte o rumori di fondo elevatissimi funziona sempre quindi abbiamo superato nettamente le aspettative ma con molta meno fatica rispetto agli altri progetti quindi c'è proprio un disegnerinamento totale e in alcuni casi tra aspettative tecnologie più o meno evolute noi non sviluppiamo tecnologie neurali noi usiamo quelle che troviamo sul mercato le sfruttiamo le configuriamo usiamo attività universitarie e quant'altro quindi ci sono tecnologie maturissime per cui pronte all'uso pick and play e altre invece no chiarissimo di questi temi ripeto poi ci parlerà anche un po' Silvia Montanari della sua esperienza insomma a contatto con le aziende però adesso lascerei un attivino la parola invece Emilio Bavarella che ringrazio insomma di essere qui con noi perché hai in programma un po' in questa prima fase insomma anche un excursus sulle tue ricerche ti chiedo insomma un po' di parlarne e poi appunto su questo rapporto che effettivamente porti avanti da sempre diciamo comunque da molti anni da un lato di collaborazione anche con le aziende perché la tecnologia in un certo qual modo poi non sempre però spesso ti viene fornita da loro e hai delle collaborazioni anche molto interessanti che ci farai vedere su proprio anche la creazione o comunque la sperimentazione diciamo così su nuove possibili tecnologie o nuove possibili applicazioni delle tecnologie di automazione e così come anche i tuoi interventi su le tecnologie già esistenti ecco che è poi un aspetto ovviamente molto caratteristico insomma delle anche forme d'arte di cui ci occupiamo prego grazie Marco e grazie anche Martina per l'introduzione iniziale ringrazio anche i numerosi organizzatori è un piacere essere qui oggi condividere con voi il mio lavoro allora visto che ho l'onore di essere presente non solo oggi ma anche domani ho cercato di dividere un po' la mia presentazione in modo da non ripetermi due volte oggi fornirò una sorta di introduzione generale a quello che è il mio processo di lavoro una sorta di overview del mio portfoglio di progetti ma poi mi vorrei concentrare per lo più sull'idea di collaborazione quindi direi di affrontare l'idea della collaborazione quasi come se fosse una forma di sperimentazione già in quanto tale ecco l'idea di intelligenza artificiale è un'idea che ho incontrato tante volte nel mio lavoro faccio solo questa premessa però spesso si tratta di quello che in America chiamano un'ombrella termo una sorta di termine ombrello sotto il quale poi si raccolgono tecnologie anche molto diverse tra loro se andiamo a scavare dentro queste tecnologie per capire effettivamente come sono strutturate che cosa sono da un punto di vista ontologico fenomenologico anche epistemologico che tipo di conoscenza producono e come possono essere interpretate vediamo che un po' le idee che tornano sono quelle che hai menzionato tu all'inizio quindi quest'idea dell'automazione è un'automazione che poi è spesso di tipo statistico una sorta di idea di autonomia della macchina quindi la macchina che diventa quanto più possibile slegata da un controllo diretto di un operatore umano e di nuovo l'idea della riproducibilità tecnica che poi ci riporta in realtà agli inizi dell'industrializzazione se parliamo di riproducibilità tecnica che subisce questa sorta di accelerazione improvvisa dovuta appunto a un'innovazione tecnologica i tre esempi che porto oggi permettono un po' di allargare col concetto di intelligenza artificiale affrontandolo in vari modi dal punto di vista del rapporto tra soggettività ed oggettività con il primo progetto Memory Scapes che poi è anche un modo per guardare la tecnologia computazionale da un punto di vista quasi più soggettivo quindi legato al singolo nel secondo progetto che presenterò The Capture Projects si parlerà del rapporto e della distinzione tra uomo e macchina quasi da un punto di vista più sociale quindi allargandoci da un punto di vista soggettivo a uno che ha a che fare con un gruppo di soggetti più largo e infine nell'ultimo progetto The Other Shapes of Me tornerò quasi alle origini della tecnologia computazionale di tipo binario per dimostrare anche quello che è il percorso e quelle che sono le radici di questa idea di intelligenza artificiale dunque direi di cominciare condividendo il mio schermo partiamo da qui dunque la collaborazione come forma di sperimentazione aggiungerei in 15 minuti allora intanto mi presento sono Emilio Vavarella sono un artista e ricercatore di base all'università di Harvard qui negli Stati Uniti come diceva Marco all'inizio il mio lavoro nasce da una riflessione sull'impatto della tecnologia sulle vite umane sul nostro pensiero e coniugo una ricerca teorica interdisciplinare speculativa e sperimentale con una sperimentazione mediale tecnica e artistica a 360 gradi andando diciamo facendo dei grandi salti da un lavoro all'altro vorrei cominciare con The Google Trilogy che è un progetto del 2012 in cui mi soffermavo sugli errori all'interno della tecnologia di Google Street View l'idea dell'errore come forza creativa ma anche rivelatrice di quelli che sono i limiti della macchina è un tema ricorrente nel mio lavoro faccio anche una seconda premessa che questa veloce introduzione sarà senza immagini e ha solo lo scopo di fornire un po' un'idea generale di quelle che sono le tecnologie con cui mi sono cimentato sempre nel 2012 inizio una esplorazione del medium fotografico digitale con The Sicilian Family sviluppando un modo per inserire le mie memorie personali all'interno del codice delle fotografie è un percorso di esplorazione del medium fotografico che poi continuerà con The Digital Skin Series che gioca sul rapporto tra bidimensionalità e tridimensionalità dell'immagine sempre nel 2012 utilizzo la fotografia per esplorare la possibilità di errori creativi nella tecnologia di riconoscimento facciale di Facebook che questo riconoscimento facciale era appena diventato molto diffuso anche in Italia poi ho lavorato con stampanti 3D ad esempio in Datamorphosis un progetto del 2019 in cui forzo la mia stampante 3D a interpretare dei versetti in latino dalle metamorfosi di Ovidio come se fossero le coordinate per la produzione di forme scultore ho sviluppato un progetto che permette di integrare dati satellitari e memorie collettive per la produzione di mappe olografiche e ho ideato e realizzato un sistema sperimentale di video chat performativa Transicon Morphosis che utilizza elettrodi per trasformare delle emoji in espressioni facciali ho realizzato anche alcuni tipi di prototipi tecnologici sempre a fini artistici come ad esempio un nemografo o per Villa Manin che era un seismografo modificato per tracciare memorie sulla rete Dreamscapes Analytica un progetto che tracciava e monetizzava i miei momenti di riposo e un emoscopio l'anno scorso che permetteva di viaggiare virtualmente all'interno di Memorial True Nell'ambito più specifico dell'intelligenza artificiale ho lavorato sia con Amazon Alexa che con dei droni che con dei bots internet che mi hanno permesso di sviluppare quest'idea di dotare diciamo le mie opere di un'intelligenza propria o perlomeno di giocare con questa possibilità con quest'idea questo l'ho fatto con opere come Mnemodrone Do You Like Cyber e Amazon's Cabinet of Curiosities che presenterò poi domani un pochettino meglio infine il progetto che invece presenterò oggi The Other Shapes of Me ha a che fare con l'idea di tradurre il mio intero codice genetico il mio DNA in un grande tessuto utilizzando il primo computer della storia che in realtà è un telaio tessile come vi farò vedere allora cominciamo subito con Memoryscapes Memoryscapes è un progetto che inizio nel 2013 anno in cui mi trasferisco da Venezia dove ho fatto i miei studi di laurea magistrale a New York e a New York vengo colto immediatamente da un senso di profonda nostalgia per la città di Venezia e questo è un po' l'input iniziale che mi porta a sviluppare questo progetto e il progetto ha a che fare con l'idea di ricostruire una mappa una mappa di Venezia basata in parte sui dati oggettivi e rilevazioni satellitari della città e in parte su delle memorie raccolte da me a New York memorie di persone che avessero con Venezia un rapporto affettivo di un qualche tipo dunque un legame particolare allora ho messo insieme un processo produttivo che nella sua prima fase raccoglieva delle memorie tramite interviste nella seconda fase integrava queste memorie con dei dati satellitari della città di Venezia e a quel punto ho contattato un'azienda dunque questo è l'ambito il punto diciamo di collaborazione che voglio evidenziare ho contattato un'azienda leader nel mondo dell'olografia un'azienda texana che si chiamava Zebra Imaging Technology che oggi fa parte di un conglomerato europeo e fondamentalmente gli ho detto che avevo sviluppato questa idea e che avrei voluto utilizzare la loro tecnologia per produrre una mappa olografica che fosse appunto basata su queste memorie collettive che avevo raccolto l'azienda è stata subito interessata se non altro perché non avevano mai pensato di poter utilizzare la loro tecnologia per qualcosa del genere e quindi ho lavorato poi a stretto contatto con i loro ingegneri e nell'arco di alcuni mesi abbiamo prodotto due piccoli ologrammi che vedete qui nelle immagini sono questi qua sono dei dettagli di Venezia e poi abbiamo anche realizzato una grande mappa olografica invece della città nella sua interezza questi sono gli studi preparatori dell'ologramma io lavoro poi spesso per progetti che al loro interno hanno ospitano diciamo cose diverse quindi ad esempio degli studi fotografici un libro questo è un libro d'artista che raccoglie delle poesie che in realtà sono dei frammenti frammenti più poetici delle memorie che avevo raccolto e poi aveva anche una componente audio un audio a sette canali che veniva trasmesso tutto attorno agli ologrammi questi ologrammi non sono dei monitor ci assomigliano in realtà funzionano in modo puramente ottico quando un raggio di luce perpendicolare viene puntato sulla superficie dell'ologramma e dalla giusta prospettiva quella che sembra una superficie monocroma liscia viene attivata dalla luce e proietta questa illusione di una figura tridimensionale nello spazio che può essere esplorata da tutti i lati ecco questa è la vista dell'installazione che adesso è parte della collezione della fondazione fabbri a Pieve di Soligo in provincia di Treviso passo velocemente al secondo progetto è il secondo tipo di collaborazione completamente diverso per il progetto The Capture Project The Capture Project nasce l'anno dopo nel 2014 in quel momento mi stavo mi stavo interrogando proprio sull'idea del rapporto tra essere umano e macchina cercando un po' di definire quello che potesse essere proprio l'elemento di differenzazione sembra una cosa molto semplice ma in realtà molto difficile e interrogandomi su questa cosa mi sono incontrato questo villaggio un villaggio che in realtà all'epoca contava 5.000 persone il viaggio si chiama Da Fenn si trova in Cina e tutti i 5.000 sono pittori questi 5.000 pittori di Da Fenn fanno una cosa molto precisa cioè loro non creano il nuovo ma riproducono opere d'arte che esistono già in particolare opere d'arte che fanno parte della tradizione della storia dell'arte occidentale e che loro producono quasi interamente per il mercato occidentale quindi io decido di contattare questa grande azienda che si chiama Shenzhen di Co che fa sorta di management di tutti questi pittori e gli chiedo di mettermi in contatto con uno dei loro pittori questo pittore sottopongo una proposta e un contratto un contratto da artista da artista perché lui si definisce artista ma lavora fondamentalmente come una macchina riproducendo immagini in modo sistematico meccanico quindi quest'idea della riproducibilità tecnica che può essere anche fatta ovviamente dagli esseri umani da artista gli ho proposto di dipingere qualcosa di diverso ovvero i codici CAPTCHA che durante il corso di un anno intero io avrei incontrato online i codici CAPTCHA sicuramente li avete incontrati anche voi sono quei codici colorati alfanunerici che sono stati inventati per distinguere appunto l'uomo dalla macchina anche le intelligenze artificiali hanno difficoltà a distinguere e comprendere questi codici noi esseri umani riusciamo a farlo più o meno in modo semplice e immediato dunque facevo degli screenshot dei codici CAPTCHA che incontravo online li mandavo al pittore che poi li riproduceva nel modo più preciso possibile utilizzando della pittura d'olio questo è stato un processo che era da un lato un processo collaborativo dall'altro punto di vista serviva anche a mettere diciamo sotto una lente di ingrandimento quelle che sono quelle meccaniche di produzione che esistono all'interno del mondo dell'arte esistono diciamo all'interno della società contemporanea anche con tutti diciamo i paradossi e le ambiguità del caso altro elemento importante che ho proposto a questo pittore di dividere gli oneri e i profitti del progetto quindi cercare di fare anche una sorta di contrattazione che fosse la più equa possibile ma che poi permettesse di avere un ritorno e una soprofiquità per tutte le parti in causa questo è un dettaglio di uno dei dipinti e passo negli ultimi cinque minuti che ho a mia disposizione all'ultimo progetto di cui vi voglio parlare di risparmi il lungo titolo diciamo The Other Shapes of Me per semplificarci la vita ma il titolo fa riferimento alla prima linea di codice del mio DNA in questo progetto ci toffiamo un po' nelle origini della tecnologia binaria e computazionale come avevo accennato in precedenza si parla spesso del primo computer della storia quando ci si riferisce al telaio Tessile Jacquard cioè un telaio d'epoca industriale che utilizza per la prima volta dei cartoni perforati delle schede che contengono dei pieni e dei vuoti un codice binario che fondamentalmente rappresenta delle informazioni che può essere letto dal telaio Tessile e che contiene delle istruzioni sul tessuto che deve essere prodotto quindi scavando diciamo nelle origini della tecnologia binaria essendo molto affascinato da questo oggetto industriale di cui ormai ne esistono veramente pochi ancora in funzione ho deciso di fare una cosa cioè di prima di tutto genotipizzare il mio DNA cioè prendere quello che viene considerato da molti il codice della vita il codice della vita per me è quello mio personale di prenderlo e una volta preso significa averlo già tradotto in un codice binario la mia idea è stata quella di sottoporre poi questo codice binario molto lungo a questo antichissimo computer cercando di capire che cosa ne sarebbe potuto venire fuori ora queste sono alcune immagini del progetto magari mentre queste immagini sono in sovraimpressione vi racconto un pochettino anche la complessità del progetto e il tipo di collaborazione che è stata necessaria per realizzarlo la collaborazione è stata di due tipi dal primo da un lato la collaborazione è stata tra me e mia madre che vedete in queste immagini volevo che questo tessuto che al suo interno codificasse il mio intero codice genetico non fosse semplicemente prodotto da un'azienda ma che venisse riprodotto di nuovo l'idea della riproducibilità tecnica da quelle che già una volta aveva prodotto questo codice dunque mia mamma in prima persona doveva essere impegnata nella produzione del tessuto il secondo il secondo lato della collaborazione era trovare ovviamente un luogo in cui questo telaio esistesse fosse disponibile e qualcuno fosse in grado e anche avesse voglia di condividere la propria conoscenza su come operare questi macchinari molto complessi con qualcuno come mia madre che non aveva mai utilizzato un telaio jacquard di fine 1800 inizio del 900 e questo questo siamo riusciti a farlo collaborando con la tessitura già quinto di Gagliano del Capo in provincia di Lecce una delle poche tessiture che ancora oggi utilizza dei tellai meccanici di questo tipo ovviamente questo è stato possibile solo grazie alla mediazione di un'associazione che si chiama Random con cui abbiamo vinto il sesto band Italian Council nel 2019 che ci ha fornito anche il budget per la possibilità di produzione di questo progetto molto molto complesso e allora il progetto fondamentalmente consiste proprio in questo processo di traduzione che va dal codice genetico al tessuto un tessuto che come mi assicurano anche i gestori della tessitura già quinto nessuno aveva mai provato ad utilizzare quindi è stato dal punto di vista dell'azienda scoprire che i loro macchinari fossero capaci di fare qualcosa che nessuno avesse mai nemmeno immaginato fosse possibile dal mio punto di vista la collaborazione diventa proficua nel momento in cui ho a mia disposizione non soltanto diciamo un corpus di conoscenze di abilità di expertise che viene messo poi a disposizione dell'opera ma anche accesso diretto a delle tecnologie che sono rare fondamentalmente rare quasi quasi impossibili da trovare sul mercato per realizzare delle idee appunto che utilizzano per queste tecnologie in modi alternativi questa è una serie di fotografie del primo primo diciamo esperimento di esposizione del progetto quest'estate sempre a Gagliano del Capo a due passi dal luogo in cui il tessuto era stato prodotto qui non si vede il tessuto finale che infatti sarà svelato nei prossimi mesi quello che si metteva in mostra qui erano un po' le idee le ipotesi gli oggetti che sono venuti fuori dal processo produttivo anche in questo caso l'opera al suo interno ospita varie cose uno spin off è questo libro d'artista che abbiamo prodotto quest'estate che poi invece scava diciamo su quelle che sono le idee teoriche storiche antropologiche concettuali artistiche curatoriali legate al progetto stesso ho appena finito i 15 minuti quindi mi fermo qui vi ringrazio e poi ci sentiremo dopo per la conversazione finale ho creato terrorismo con questa allora sì Emilio ci sono un po' di domande però appunto prima vorrei dare la parola a Silvia innanzitutto che ringrazio per la pazienza che la cosa è stata un po' lunga e poi perché secondo me appunto anche nella tua presentazione ci sono degli elementi che poi possiamo riportare anche a Emilio su almeno due o tre punti che hai toccato che sono sicuramente molto stimolanti prego Silvia grazie anche a te grazie a voi grazie veramente a voi per l'invito anche per me insomma un grande piacere partecipare anche io condivido la mia presentazione con qualche slide a riguardo non so se il dato conferma che è arrivata sì sì si vede si vede tutto ok corretto forse era corretta nel modo diverso no così va bene forse se clicchi scambio schermo esatto l'avevo fatto scusate ecco qua ecco qua allora vi rubo veramente solo due minuti per presentarmi soprattutto anche per dire due parole sulle aziende che rappresento che probabilmente mi servono anche un po' per raccontare un po' meglio la nostra esperienza e che cosa diciamo così abbiamo in questo ambito abbiamo fatto in questo ambito ci tengo anche a ringraziare anche percorsi erratici che diciamo come ha detto prima Stefano Torelli è un po' sponsor di questo anche di questo evento VM Sistemi una delle aziende che rappresento è socia della rete percorsi erratici dalla sua dal momento in cui è stata fondata quindi mi sembra più o meno da sette anni a questa parte e che per noi di VM Sistemi in particolare anche per me personalmente perché io mi partecipo proprio veramente dal primo momento è sempre stata un'esperienza molto molto positiva perché ci ha consentito di essere in relazione con tantissime aziende diverse tra loro che hanno un obiettivo comune quello di provare a generare delle nuove idee innovative e quindi questo nel nostro percorso di questi anni mi ha sicuramente arricchito tutti i partecipanti in particolare anche a me mi sento sicuramente arricchita da questa esperienza molto velocemente vi racconto che sono le aziende che rappresento per poi entrare ovviamente nel merito un po' delle riflessioni legate a questo argomento e di qualche piccola esperienza VM Sistemi è un'azienda che è nata ormai da da 36 anni è presente sul mercato un'azienda che si occupa fondamentalmente di due diciamo possiamo dire di due aree di business una dedicata specifica che si occupa fondamentalmente di soluzioni e infrastrutture tecnologiche e in abito security che ovviamente all'interno poi delle aziende di questo momento sono necessarie per far funzionare possiamo dire in questo modo qualsiasi tipo di software di tecnologia di cui hanno bisogno qualche veloce numero per dire che siamo un'azienda che da 36 anni opera sul mercato e che quindi ha diciamo così una certa dimensione circa 16 milioni di fatturato 70 persone quindi diciamo ci riteniamo una media azienda sul tema delle soluzioni cloud e sul tema delle soluzioni infrastrutturali security questo è veramente una carrellata molto molto veloce delle soluzioni dei servizi che offriamo nei quali ovviamente non voglio entrare nel merito in questo momento ma che mi servono solo per farvi capire che molto spesso all'interno di queste soluzioni di questi software di questi prodotti di queste ovviamente tecnologie che noi utilizziamo già da diverso tempo ci sono molto spesso anche soluzioni legate all'intelligenza artificiale o prodotti che utilizzano al loro interno tecnologie appunto di questo di questo genere per quanto riguarda la parte l'anima chiamiamola così applicativa vi dicevo prima la nostra focalizzazione è di fornire a delle aziende del mondo della distribuzione delle soluzioni ERP che ovviamente seguono quelli che sono i classici processi aziendali della parte amministrativa della parte magazzino ciclo attivo ciclo passivo fatturazione e quant'altro e quindi cerchiamo di costruire delle soluzioni gestionali che sono prodotte da noi che siano diciamo il più possibili in linea con quelle che sono le esigenze delle aziende a cui tipicamente ci rivolgiamo poi in particolare su delle aree particolari una la business intelligence e l'altra quella della tema documentale e digitalizzazione dei processi da un po' di anni abbiamo fondato delle aziende ad hoc che si occupano squisitamente di queste aree particolari una di queste Italia Consulting mi vede coinvolta in prima persona in quanto sono anche presidente di questa realtà così magari dopo vi racconto un po' anche di questa parte velocemente questi sono i partner tecnologici con cui spesso noi ci rapportiamo ovviamente sono alla base delle nostre soluzioni in particolare poi nell'esempio che riporterò dopo la partnership che abbiamo con IBM ci vede un pochino più vicini a queste tecnologie perché sia per quello che riguarda diciamo parti hardware che parti software IBM stessa ha diciamo così sfruttato e ha delle soluzioni ovviamente che parlano e ovviamente applicano l'intelligenza artificiale in maniera abbastanza importante velocemente due parole anche su Italia Consulting vi dicevo che Italia Consulting è nata da un'iniziativa di VM Sistema e più di altri soci di qualche anno fa di fondare un'azienda focalizzata su questa specifica area di business che in particolare è digitalizzare dei processi aziendali con una focalizzazione anche su tutto quello che è il tema diciamo che alcuni obblighi normativi hanno portato a casa di tutte le aziende che è la fatturazione elettronica la fatturazione di conservazione elettronica che di fatto ha un po' sdoganato il fatto che alcune informazioni possano essere conservate anche in maniera elettronica e non più continuando a conservare dei pezzi di carta in raccoglitori alle spalle degli utenti amministrativi e ha sdoganato anche il fatto che molto spesso all'interno delle aziende c'è bisogno c'è la necessità magari di andare ad organizzare informazioni in senso generale e anche documenti in una maniera strutturata che possa affiancarsi a quello che magari è il normale lavoro delle singole persone quindi dei singoli processi e quindi che possono essere di supporto all'operatività quotidiana delle singole persone in diversi ambiti questo di fatto in maniera molto sintetica è quello che fa Italia Consulting è un'attività che noi facciamo alla base ovviamente con delle soluzioni software che consentono ovviamente di fare questo e che di fatto in breve breve sintesi ci consentono di raccogliere e archiviare delle informazioni dei documenti in qualsiasi forma diciamo essi siano di metterli in condivisione con i vari utenti e ovviamente poi anche di sfruttare con strumenti ad hoc di analisi e di reportistica queste informazioni ovviamente perché attraverso poi anche queste analisi poi possono diciamo fornire delle informazioni importanti per diciamo così l'attività di business delle singole aziende la nostra esperienza diciamo in tema appunto di digitalizzazione è abbastanza vasta su aziende che operano in settori anche molto diversi tra di loro che vanno dal mondo produttivo al mondo distributivo al mondo dei singoli servizi piuttosto che al mondo anche della pubblica amministrazione ed è questo un po' diciamo così l'ambito molto sintetico molto veloce su cui opera quotidianamente Talia Consati i nostri ambiti di intervento in termini di processi quando parliamo di esempi pratici di che cosa vuol dire digitalizzare un processo qui ho cercato di riepilogare sempre in estrema sintesi quelli che sono degli esempi non so provate a immaginare una qualsiasi azienda che ha bisogno magari di organizzare tutto quello che è il fascicolo dei propri dipendenti o delle ricerche di personale che ogni azienda magari nell'arco della propria attività deve andare a fare e quindi attraverso ovviamente l'impostazione di un certo tipo di fascicolo di modalità anche operativa di come devono essere eseguite le cose si possono creare dei veri e propri anche workflow che consentono ovviamente di scambiare le informazioni tra chi magari ha fatto il colloquio e chi ha deciso poiché quella persona va assunta e poi l'ufficio amministrativo che poi deve andare effettivamente ad avviare la pratica di assunzione e scambiare i documenti con ovviamente l'ufficio preposto piuttosto che gli altri singoli utenti oppure pensate degli esempi completamente diversi dove per esempio c'è bisogno di digitalizzare completamente un processo approvativo di documenti che riguardano magari una certa gara piuttosto che una certa commessa abbastanza corposa di una produzione per un cliente molto importante o comunque anche per qualsiasi tipo di cliente ci sono tanti di questi processi che magari possono essere diciamo sfruttati ripeto strumenti a corredo del semplice gestionale dei sempli software dipartimentali che magari l'azienda utilizza che possono ovviamente essere ripeto digitalizzati e quindi schedulati anche in singole operatività nell'arco della nostra esperienza questo dico nostra esperienza sia come diciamo azienda warm system che come azienda talia consulting molto spesso noi ovviamente ci poniamo di fronte al fatto di dover raccontare di dover proporre un progetto da a un singolo cliente e molto spesso nel momento in cui poi questo progetto viene magari accettato dal cliente dall'interlocutore con cui noi abbiamo ovviamente intrattenuto la singola trattativa quando poi è il momento di metterlo in campo di realizzarlo una delle cose che molto spesso emerge in maniera molto preponderante è la capacità poi di convincere tutti gli utenti tutte le persone che magari hanno bisogno di usufruire di quella singola soluzione a utilizzarla ad utilizzarla correttamente a seguire magari quello che è l'indicazione del nostro consulente del nostro project manager che poi sta impostando il progetto questo diciamo così mi piace prendere il filo conduttore di quello che diceva prima Emilio Vavarella legato al tema della collaborazione e qui mi allaccio un attimo nello specifico ovviamente dell'esempio che io vi stavo facendo che capita spesso a noi con i nostri clienti è questo che è vero che definito magari il bisogno di un'azienda magari già oggi spesso esiste già una soluzione o comunque un qualcosa che molto velocemente porti una risposta all'azienda al proprio problema e quindi porti una soluzione appunto a quell'esigenza ma spesso noi rileviamo che la tecnologia da sola non basta a ottenere poi dei risultati concreti all'interno delle aziende e a nostro avviso molto spesso serve avere poi delle figure all'interno delle aziende che siano in grado di trainare questa innovazione di trainare questi cambiamenti che poi spesso i singoli utenti gli operativi che magari devono iniziare a usare delle nuove procedure siano diciamo preposti e siano inclini a volerle utilizzare e questo per noi spesso apre un po' il tema che ho pensato di racchiudere anche qui in estrema sintesi sull'argomento della digital leadership che a nostro avviso nelle aziende di oggi è diventato un elemento ancora più importante rispetto al passato nel senso che ovviamente con la parola digital davanti che tanto oggi va di moda e che un po' la mettiamo da tutte le parti è un modo per evidenziare che non è più sufficiente avere poi dei manager all'interno delle aziende che siano in grado di trainare e di condurre al meglio l'azienda ma siano anche in grado di diciamo così far sfruttare agli utenti agli operativi tutte quelle innovazioni che oggigiorno ovviamente magari un progetto come l'esempio di cui facevo prima magari l'azienda decide di affrontare e questa cosa non è poi sempre così scontata perché quello che vediamo noi spesso è che a volte si danno un po' per scontate certe cose ma la cultura di certi cambiamenti di certe modalità operative non è così frequente in maniera così pervasiva all'interno delle aziende e questo è un tema sul quale noi spesso puntiamo molto con i nostri interlocutori perché non è solo sufficiente che il responsabile di area il responsabile IT oppure il titolare di un'azienda decida di fare quell'investimento e quindi di fare quel percorso di scegliere quel prodotto quella soluzione ma è altrettanto fondamentale che poi quella soluzione sia ben accettata ben percepita da tutti gli utenti che poi la dovranno utilizzare perché questo potrà essere un fattore probabilmente determinante del successo poi dell'implementazione di quel progetto all'interno dell'azienda quindi è un modo anche per trascinare le persone e quindi spesso per noi le figure chiave all'interno dell'azienda che devono appunto essere digital leader siano proprio in grado di creare anche tutte quelle condizioni che all'interno dell'azienda poi possano favorire questo percorso anche di cambiamento anche qui ho citato così qualche esempio che mi piace ricordare perché molto spesso le domande classiche ci sono ma perché funziona tutto bene così com'è oggi abbiamo la carta per farmi esempio molto banale la carta che è questa cosa che alla fine si tocca si vede si può duplicare facilmente la posso mettere nelle singole cartelline la posso ritrovare molto facilmente andiamo così bene in questo modo perché poi dobbiamo cambiare per fare un esempio banalissimo però che spesso rende l'idea quando ci si trova all'interno delle aziende spesso magari non si fanno tutte queste domande le persone che lavorano nelle aziende perché magari hanno questa comfort zone che non vogliono mai modificare e quindi sicuramente possono a volte essere un po' d'ostacola a questi cambiamenti ecco noi cerchiamo nel nostro anche modo di operare con i nostri clienti di spingergli a farsi sempre la domanda ma cosa succederebbe invece se non ci fosse questo cambiamento e quindi questo stimolo continuo a farsi che le aziende capiscano che sia necessario ripeto anche diffondere al loro interno nelle loro persone questo tipo di cultura per entrare un po' nel merito prima di insomma entrare nel merito di questa tematica di cui stiamo parlando oggi appunto legata all'intelligenza artificiale faceva piacere anche me portarvi qualche esempio che ci è capitato che abbiamo diciamo portato avanti su alcuni nostri clienti e per fare questo parto un po' diciamo dalla dalla lontana per facendo questa citazione visto che prima vi ho detto che tra le nostre diciamo tecnologie noi siamo partner IBM da tantissimi anni ci sono molti strumenti molti prodotti software e hardware della famiglia IBM che come dicevo appunto hanno già iniziato ad utilizzare da diverso tempo ovviamente l'intelligenza artificiale al loro interno e mi piaceva moltissimo questa immagine che faceva vedere anche con quale velocità sono cambiate delle cose nell'arco di questo secolo possiamo dire e se ai primi del novecento quella che veniva classificata la tabulating era poi si è evoluta nell'era ovviamente legata a tutto l'aspetto della programmabilità e quindi a come diciamo abbiamo iniziato a programmare a diffondere tutta la parte software fino ad arrivare nel 2011 quindi comunque con anche qui se pensiamo a una certa velocità quella che oggi è definita appunto la cognitive e artificial intelligence era che è quella che ha visto diciamo così la strada aprirsi quando un calcolatore Watson appunto di VM ad un quiz televisivo ha vinto una partita con degli avversari umani quindi quello ha un po' iniziato a sdoganare anche la potenza ovviamente di queste tecnologie e di quello che possono riuscire a fare quindi sicuramente l'intelligenza artificiale crediamo che sia una possa offrire un potenziale fondamentale alle aziende in tantissimi in tantissimi ambiti e questo diciamo ne possiamo avere n.000 esempi tra quelli per esempio quelli che faceva prima Stefano ma tantissimi altri l'esempio che vi porto io è un esempio che abbiamo proposto a delle aziende nel settore produttivo aziende che hanno quindi una linea di produzione abbastanza importanti linea di produzione abbastanza diciamo così difficili sotto alcuni aspetti perché necessitavano di avere dei controlli anche organizzativi e dei controlli di sicurezza per riuscire a ridurre se non adazerrare quelli che erano gli infortuni sul lavoro legati ad alcune attività critiche che gli operai che dovevano lavorare appunto in queste linee produttive avevano in certi momenti quindi la richiesta era quella di cercare di implementare un processo che potesse garantire in prima battuta che il singolo operaio indossasse correttamente i dispositivi di protezione individuale e in seconda battuta quello di poterlo guidare all'interno della sua attività lavorativa delle varie task delle varie attività che doveva svolgere le attività in maniera corretta seguendo una certa sequenza di lavori quindi praticamente il progetto che noi abbiamo studiato è stato quello di predisporre diciamo così nella linea di ingresso diciamo della linea produttiva ovviamente un sistema di telecamere che potessero riconoscere se l'operaio stesse indossando correttamente i dispositivi di protezione individuale quali possono essere il caschetto piuttosto che i guanti piuttosto che gli occhiali di protezione o le stesse calzature di antifortunistica e solo nel momento in cui diciamo così la macchina poteva ceccare in maniera positiva il fatto che l'operaio avesse indossato correttamente il singolo dispositivo di protezione individuale la macchina si sbloccava diciamo in qualche modo e potesse rendere disponibili all'operatore una lista di attività di cose da fare in modo tale che ovviamente poi l'operatore potesse essere appunto guidato in questa sua sequenza di attività in altri casi abbiamo addirittura anche bloccato con a seconda ovviamente del tipo di macchinario la serratura o l'accesso al macchinario stesso proprio per cercare di ridurre al minimo la possibilità ovviamente di rischio Silvia ti interrompo perché ci sono un po' di elementi che volevo riportare anche a riportare poi indietro a Emilio che è arrivata in fondo quindi perfetto no perché ci sono tanti elementi che hai posto sul piatto che secondo me possono essere interessanti appunto anche da rimandare indietro a Emilio sia in termini della sua esperienza per l'appunto con appunto con le aziende o comunque con il ramo industriale di cui facevi c'è prima però in realtà tu hai usato prima un termine che appunto chiaramente è un tema che viene anche affrontato molto in ambito artistico il tema della riproducibilità tecnica che secondo me si sposa anche molto bene con anche le tematiche di cui parlava Silvia e anche con le problematiche che sono emerse già inizialmente con Stefano Torelli e poi appunto anche con Silvia e quindi ti domando un pochettino che tipo di esperienza hai avuto tu dall'altro lato nel senso come è stato per appunto il tuo rapporto con le aziende però in termini proprio di questa riproducibilità tecnica proprio lo sviluppo dei processi questa idea anche di lavorare su tecnologia in maniera alternativa parlavi di questo prima per esempio ti è capitato anche magari di suggerire delle possibilità e delle modalità di utilizzo alternativo di quella determinata tecnologia effettivamente è proprio così si tratta sempre di andare a proporre un'idea di un utilizzo alternativo poetico anche disfunzionale dal punto di vista della produttività cioè magari l'azienda avendo questa comfort zone si parlava anche di quello prima che spesso è incentrata verso un fine unico in modo anche molto ragionevole che è quello della produttività perde di vista degli altri possibili outcome degli outcome alternativi che magari dal punto di vista produttivo valgono meno ma che poi dal punto di vista umano del valore aggiunto che può essere anche il valore di storytelling che si può fare attorno dei prodotti può comportare molto di più per me la questione interessante più della riproducibilità tecnica in sé è la questione delle scelte perché la la riproducibilità tecnica porta con sé diciamo come concetto quest'idea della mancanza di decisionalità cioè un processo che una volta avviato segue più o meno a ruota se stesso riproduce se stesso secondo me invece la questione di chi sceglie cosa e come le scelte vengono fatte è una questione che resta centrale anche quando abbiamo a che fare con sistemi in cui la riproducibilità tecnica è assolutamente accentuata cioè di pochi giorni fa la notizia che una delle ricercatrici più più conosciute qui negli Stati Uniti che lavorava per la sezione di etica dell'intelligenza artificiale per Google è stata licenziata dopo aver diciamo alzato la mano e posto delle domande anche un po' scomode sulla questione proprio legata allo sviluppo etico di alcune delle tecnologie specificamente di intelligenza artificiale che ormai Google non usa diciamo solo per prodotti specifici ma che utilizziamo tutti noi ogni giorno quando andiamo su Google Search e premiamo cerca cioè tutto quel processo lì utilizza intelligenza artificiale oggi ora ad esempio nel 2014 insieme a un artista brasiliano Daniel Belker avevo lavorato su un progetto che si intitolava Nemo Drone che partiva da un'idea l'idea era quella di sviluppare un'intelligenza artificiale e di dotare poi un drone un oggetto fisico di questa intelligenza artificiale non partendo da un'architettura del software che fosse quella tradizionale top down cioè dall'alto verso il basso io singolo decido l'intelligenza che poi ha un suo grado di efficacia su una collettività la media era quella di ribaltare la piramide cioè di sviluppare l'intelligenza artificiale partendo da un'architettura che fosse quanto più orizzontale e diffusa possibile e in particolare l'idea era quella di accumulare messaggi chiedere alle persone di condividere dei messaggi delle memorie con questa intelligenza artificiale ancora a un livello molto primordiale e l'idea era poi quella di sviluppare una sorta di personalità una sorta di soggettività fittizia sintetica per questa macchina che però fosse una sorta di sintesi di tutti i messaggi raccolti ora la mia idea era più speculativa che pratica cioè non c'era un'applicabilità già predefinita c'era una voglia di poter giocare anche ribaltare quelli che sono gli schemi che di solito si ritrovano nello sviluppo delle tecnologie la cosa interessante è che la mia idea era nel 2014 il 2016 Microsoft fa più o meno la stessa cosa quando scarica uno dei suoi chatbot su Twitter e gli fondamentalmente chiede di assimilare quante più informazioni possibili dalla collettività per sviluppare una sua personalità l'idea era esattamente la stessa cosa interessante è che questo chatbot è stato disattivato penso 24 ore dopo perché era diventato estremamente razzista quindi c'è anche quest'idea del punto chi decide cosa qual è l'architettura alla base delle tecnologie che utilizziamo e quali sono i rischi impliciti per le scelte anche tecniche che portiamo avanti con le nostre tecnologie l'altra faccia della medaglia poi è siamo effettivamente capaci di valutare tutte queste cose perché ad esempio nel 2017 quindi un anno dopo il caso di Microsoft su Twitter Facebook fa questo esperimento con questi bot che parlano tra di loro e in poco tempo questi bot sviluppano una loro lingua cioè cominciano a comunicare tra di loro in un modo che non poteva essere più decodificato decifrato da noi esseri umani quindi diciamo si crea questo gap conoscitivo dove noi sappiamo che la macchina sta facendo qualcosa ma non siamo capaci effettivamente di dire come lo sta facendo e che cosa effettivamente sta succedendo all'interno di questa black box la scatola nera che è un po' come nel medioevo c'era questo oggetto alchemico all'interno del quale si sapeva che una trasformazione fosse possibile ma non si sapeva come noi oggi stiamo costruendo anche delle architetture digitali che funzionano un po' così cioè sappiamo che cosa entra come dati abbiamo l'output che esce però il processo di elaborazione dei dati è molto opaco e quindi diciamo questa è l'altra faccia appunto della medaglia per chi per chi fosse interessato tra chi ci segue l'artista a cui faceva riferimento Emilio Bavarella si chiama Zac Blass che poi aveva sviluppato appunto un lavoro artistico sul chatbot di Microsoft che era stato come dire exploit è la parola in inglese adesso in italiano è sempre quelle parole un po' exploitato esatto exploitato cioè che poi vengono italianizzate fino appunto a sviluppare comportamenti razzisti e Microsoft l'ha dovuto ritirare e quest'artista poi l'aveva ritirato fuori in una vita post mortem digitale intelligente per l'appunto va bene comunque si chiama Zac Blass no c'è una cosa nel lavoro che citavi nei nodrone in realtà tu hai una come dire ti sei posto una domanda la leggo proprio perché mi ha sempre molto colpito cioè è possibile per una macchina agire e sviluppare una coscienza sulla base però non di un meccanismo di calcolo fondamentalmente ma sulla relazione appunto con la memoria o comunque sulla base di una relazione con gli esseri umani ecco poi tu in quello progetto specifico parli di memoria collettiva però presumo che la domanda sia estendibile no e quindi in un certo qual modo che cosa porta ti poni come domanda cosa porta le persone no a decidere se collaborare o non collaborare fondamentalmente con una macchina e non so se poi nello sviluppo di quel progetto si è arrivato a darti delle risposte da questo punto di vista o se sono ancora domande aperte perché poi la stessa domanda vorrei riportarla un po' a Silvia e a Stefano nel loro rapporto anche con le aziende no sì guarda ti rispondo brevemente perché io una risposta me la sono data però è una risposta che mantiene la domanda allo stesso tempo aperta per arrivare a una risposta sono partito da un campo di ricerca diverso che è quello degli animo studies quindi gli studi dell'animalità e all'interno di questi studi che poi hanno a che fare anche con la psicologia cognitiva con le teorie della conoscenza della consapevolezza processi cognitivi c'è quest'idea della inconoscibilità dell'altro e c'è un paper molto famoso di un filosofo che si chiama un filosofo analitico Thomas Nagle il paper si chiama What is it like to be a bat for a bat che cosa significa essere un pipistrello per il pipistrello fondamentalmente il nocciolo del discorso è che noi non essendo capaci di volare non avendo un radar non sapremo mai cosa significa essere un pipistrello dalla sua prospettiva possiamo soltanto creare dei modelli che approssimano la nostra conoscenza dell'altro ecco io fondamentalmente parto da lì e penso che l'idea del pipistrello non è molto diversa da quello di un chatbot online o un sistema dotato di un'intelligenza artificiale come Watson cioè noi possiamo avere una sorta di idea di quello che è l'altra entità ma non possiamo mai sapere se effettivamente quell'entità è intelligenza se ha della consapevolezza noi non sappiamo effettivamente non abbiamo una definizione scientifica di intelligenza nemmeno per noi quindi partiamo da quel presupposto che noi non sappiamo effettivamente l'intelligenza che cos'è non la possiamo definire poi non sappiamo di preciso nemmeno definire cos'è la consapevolezza quindi anche l'idea di coscienza noi pensiamo di averlo ma non siamo del tutto sicuri di che cosa sia di dove sia dove situarla poi c'è anche l'idea del fatto che noi siamo capaci di riconoscere un certo livello di consapevolezza magari in animali che ci assomigliano cioè lo vediamo magari pensiamo che la scimmia ce l'abbia perché ci riconosciamo nella scimmia siamo abituati a stare insieme ai cani e quindi lo vediamo quando pensiamo magari ai batteri o pensiamo magari ai vermi cominciamo a dubitare del fatto che siano dotati di consapevolezza quindi quando se parliamo di alberi ad esempio ci sono teorie che dicono che gli alberi potrebbero essere dotati di consapevolezza sono degli organismi viventi ma sono così alieni rispetto a noi che siamo veramente incapaci di stabilire quella connessione che è anche concettuale tra noi e loro quando noi parliamo di tecnologie intelligenti secondo me ci siamo troviamo esattamente allo stesso punto cioè è un po' come cercare di parlare con un albero cioè sappiamo che magari dimostra anche una sua vitalità un certo livello di autonomia però è un livello di autonomia che resta comunque alieno alla nostra capacità di scavare all'interno di esso sì assolutamente c'è tra altre cose anche qui ci sono le ricerche del mio omonimo io sono il suo omonimo insomma di Stefano Mancuso che parla di intelligenza proprio di questo esattamente esattamente riporterei un pochino questi spunti mancano diciamo dieci minuti un quarto d'ora a Silvia innanzitutto a Silvia Montanari però anche a Stefano Torelli sulla base delle vostre esperienze nel senso c'è veramente questa domanda appunto alla quale poi Emilio ha dato una sua risposta la chiedo anche a voi in un certo qual modo che secondo me è molto centrale cioè cosa porta effettivamente le persone a decidere di collaborare con una macchina come questo tipo di collaborazione parlavi tu Silvia possa essere guidato in un certo qual modo perlomeno diciamo facilitato ecco e quindi in questo senso se forse al di là di fare alfabetizzazione pura ok su come funziona tecnicamente un'intelligenza artificiale cosa ti può dare un'intelligenza artificiale se può essere forse utile anche fare un passo successivo no cioè che tipo di relazione tu azienda e essere umano che poi sta dietro l'azienda cerchi nella relazione con la macchina al di là del suo strettissimo meccanismo funzionale sì allora guarda in estrema sintesi mi sento di risponerti così in questo modo secondo me è fondamentale dare all'utente che deve utilizzare quella tecnologia diciamo tutta una serie di di chiavi di lettura che possano fargli trarre il maggior vantaggio possibile poi dietro questa osservazione il maggior vantaggio possibile ovviamente può essere declinato in modi diversi a seconda dell'interlocutore che abbiamo dall'altra parte se sto parlando di un manager ovviamente ha una sua interpretazione di quello che è il suo maggior vantaggio possibile se stiamo parlando del singolo operatore della macchina produttiva che citavo prima ovviamente è un altro tipo di vantaggio un altro tipo di però questa è l'estrema sintesi che mi sento di sintetizzare perché poi alla fine è una persona che è la persona che decide e quindi deve vedere un proprio diciamo ritorno rispetto all'utilizzo di quella tecnologia rispetto all'essere una parte attiva che favorisce quel cambiamento quella nuova innovazione quella nuova modalità operativa che comunque arriva diciamo dall'alto o arriva da qualcun altro e nel mio discorso che facevo prima legato alla digital leadership dicevo proprio che secondo me le persone che hanno poi certi ruoli che devono facilitare questo e convincere poi tutti i singoli operatori a mio avviso di fatto devono comunque sempre mettere la persona al centro nel momento in cui riesce a mettere la persona al centro decisioni di dando appunto l'evidenza di quale può essere per loro un vantaggio forse questo è il reale cambiamento che serve proprio perché aiuta e stimola e fa scattare magari quella molla particolare in questo senso c'era l'ultimo video che stavi per farci vedere prima se vuoi no no non era un video era semplicemente era partito il video dei miei ringraziamenti che era animato ma non era un video no ok però non c'era un video allora il progetto di cui parlavi appunto con per dire col braccio meccanico anche lì ci sono poi un po' come suggeriva anche Emilio prima appunto nel mondo anglosassone nel termine intelligenza artificiale artificial intelligence effettivamente è un termine ombrello per quello poi a un certo punto abbiamo deciso di parlare più di automazione effettivamente di cui l'intelligenza artificiale può essere un aspetto però appunto già solo quelle immagini che avevi fatto vedere quindi una cioè una tecnologia che appartiene più al mondo se vogliamo della fabbricazione quindi appunto stampanti 3D che comunque Emilio ha usato il braccio meccanico con un essere umano che a quel punto ha in mano un'ulteriore interfaccia tecnologica con la quale può comandare una macchina e un sistema che diventa ibrido in termini di un'intelligenza che è quella dell'operatore diciamo così o comunque dell'essere umano lì svolge un compito tecnico voglio dire poi nel nostro mondo può svolgere un compito più creativo poetico artistico nella relazione con una macchina interfacciato per giunta perché ha un pad in mano interfacciato per giunta da una macchina ulteriore e quindi in questo senso se anche il discorso etico di cui parlava Emilio lo vedi come dire nel rapporto con le aziende non dico magari adesso che forse è un pochino prematuro però forse in futuro possa e debba diventare anche un tema su cui lavorare ecco ma è sicuramente un tema un tema che già si sente in alcuni casi assolutamente che viene evidenziato per esempio nell'esempio che citavo io diciamo che l'esigenza nasceva proprio da una da un qualcosa di ridurre gli infortuni sul lavoro e quindi faceva emergere ha fatto emergere in certe aziende un elemento molto importante poi da presentare al singolo operaio che doveva lavorare in un certo modo perché in questo caso passatemi questa così questa parola l'interesse era più del singolo operaio rispetto che l'azienda nel lavorare meglio nel processo produttivo ecco quindi questo diciamo per tornare sul discorso che facevi tu della parte etica comunque anche della parte di come poi si sfruttano certe cose perché se da una parte automatizziamo ovviamente andiamo a togliere potenziale lavoro da parte degli operai diciamo così in quell'ambito però poi magari dobbiamo aggiungere altre figure che sono maggiormente specializzate perché hanno bisogno anche di altre competenze e quindi voglio dire il posto di lavoro poi in qualche modo si recupera ecco in una maniera diversa sicuramente e questo è un altro tema quello poi è un altro tema anche alcuni aspetti Emilio insomma lo sa del nostro mondo un po' appunto della new media art sta iniziando a trattare del digital labor però appunto anche lì spesso ci sono visioni sempre un po' terrificanti diciamo mentre invece sarebbe interessante provare a trovare dei modelli di integrazione ecco però questo è tutto un altro aspetto gli dedicheremo un'altra cosa e chiuderei con Stefano insomma con Stefano Torelli mi domando appunto e ti chiedo cosa pensi delle riflessioni che mi ha fatto con Emilio ulteriormente e come anche Casa Bufalini oggettivamente o potrà magari in futuro lavorare come intermediario anche su questi aspetti sicuramente la nostra mission perché come dicevo prima proprio il problema adesso dei nostri interlocutori è quello di interfacciarsi con l'algoritmo di intelligenza artificiale perché finché tutto funziona è risultato un sistema automatico per cui non ci sono grandi domande quindi la prima esigenza di aver automatizzato un sistema è stata attesa per cui tutto a posto io vi ho portato esempi di successo ma noi ne abbiamo diversi in cui non è data a buon fine la soluzione e a questo punto viene fuori proprio la difficoltà nel relazionarsi con queste tecnologie proprio non capendo purtroppo non posso dare troppi dettagli ma in un progetto in ambito diciamo culturale dovevamo fare dei riconoscimenti per poi compiere delle azioni di alcuni prodotti musicali all'inizio il sistema funzionava benissimo poco dopo quando ha continuato a lavorare chiaramente questo ha preso delle regole che davano dei risultati che non erano più quelli attesi e quindi la reazione è stata ma questa macchina è stupida no questa macchina ha un'intelligenza diversa questa macchina sta elaborando sta gestendo delle regole che noi non riusciamo a capire proprio per quello che diceva Emilio perché magari usiamo delle reti neurali di cui non conosciamo profondamente le regole per cui a quel punto loro questa rete neurale si era creata delle sue logiche un po' simili alle chatbot che si erano creati il loro linguaggio e quindi dava dei risultati ma a nostro vedere privi di senso per cui ecco a questo punto di vista c'è una perdita totale di fiducia per uno che non conosce i meccanismi ma è anche difficile comunque farli spiegarli perché a volte anche i tecnici non li conoscono fino in fondo per cui si apre una sfiducia totale verso tutto il mondo di intelligenza artificiale quindi è sicuramente una mission che noi sentiamo insomma quella di far capire che è un'intelligenza diversa perché siamo tutti abituati a macchine con azione e reazione spegniamo il tasto F sulla tastiera esce F sullo schermo perché lì non c'è intelligenza c'è un segnale elettrico che passa di là invece il segnale elettrico viene digerito masticato da una rete da una rete neurale per cui questo è difficilissimo da comprendere come è altrettanto difficile a volte capire percepire le reali potenzialità di grandi applicativi come quelli che citavo Emilio che sviluppa Facebook quindi enormi capacità che probabilmente chi è fuori da quei progetti può solo lontanamente immaginare a meno che non sia insomma uno scrittore di fantascienza o altre cose ma tutte queste sono le sfide insomma che noi adesso come caso Buffalini e Romano ci porteremo avanti nei prossimi anni penso tanti anni Emilio mi sembra darei la parola di chiusura a te nel senso che quello che anche ciò di cui parlava Stefano è molto interessante a me personalmente per esempio è capitato due stati fa di essere invitato al Centro Sardegna Ricerche che è appunto un super centro di ricerca molto anche legato all'intelligenza artificiale non solo che aveva attivato questo programma di rapporto arte-scienza era una scuola poi una summer school fondamentalmente dove io poi venne invitato come docente e persi tantissimo tempo per esempio a parlare con un tecnico che c'era lì che mi parlava appunto del funzionamento di questi sistemi intelligenti di cui parlava Stefano in particolare dei GAN tra l'altro quindi delle reti poi fondamentalmente e di come effettivamente poi anche il dialogo tra due macchine che originariamente sono create e scritte diciamo così da un essere umano effettivamente possono sviluppare un linguaggio al di là del quale c'è questo confine di soglie insomma al di là del quale effettivamente poi non c'è un esperanto che permetta una comprensione non c'è una stelle di rosetta diciamo che che dia un possibile parametro interpretativo e quindi ti chiedo domanda poi funzionale anche a quello di cui parleremo domani ecco se effettivamente o perlomeno quanto sia importante ecco lavorare sulla costruzione anche etica di un linguaggio comune etica e nel caso anche possibilmente tecnica diciamo però lì forse è un po' prematuro un po' come dice Stefano qualcosa che vedremo nei prossimi anni guarda sono sono due tre domande in una da un certo punto di vista secondo me bisognerebbe anche capire che se noi sviluppiamo tecnologie in un certo modo e poi diciamo che non siamo capaci di capire come la tecnologia si sta muovendo all'interno di questa scatola nera forse lì è il caso di ripensare la struttura stessa di quella tecnologia cioè la questione etica non è una questione semplicemente a posteriori per cercare di proiettare diciamo una sorta di luce sul processo interpretarlo e poi avere una sorta di giudizio più o meno morale dei risultati cioè è una questione che ha a che fare proprio con la costruzione dell'architettura del software cioè noi dobbiamo essere in grado di capire che cosa sta succedendo perché solo a quel punto possiamo essere sicuri che i passaggi effettivamente rispondano a un'etica dal mio punto di vista io non mi occupo forse per fortuna di etica in senso stretto ma di sperimentazione artistica e ti dirò che dal mio punto di vista invece è importante utilizzare tutti gli strumenti di cui posso entrare in possesso tutti gli strumenti che la società mette a mia disposizione e di farlo in modo tale poi da suscitare delle domande suscitare delle riflessioni e anche aprire delle questioni che possono essere anche delle questioni difficili delicate critiche che però poi permettono attraverso diciamo la riflessione stessa di andare avanti cioè secondo me anche l'idea di innovazione come automatismo in realtà produce solo se stessa cioè noi per realizzare effettivamente innovazione dobbiamo essere capaci anche di prendere dei rischi fare degli sbagli imparare dagli errori e provare a fare quelle cose in modo diverso cioè quello secondo me è l'unico processo che effettivamente porta a dei nuovi risultati quindi io chiederei così per oggi grazie sì siamo stati puntuali sono le otto due cose a due cose tengo insomma una è darvi appuntamento a domani sempre alle sei e mezza sempre su questi canali saremo in collaborazione con con Adiecenze e continueremo insomma a dialogare con con Emilio partendo appunto dalla dalla sua pratica artistica e forse è questo l'incontro in cui c'è più necessità ecco di avere un secondo appuntamento perché sono temi estremamente complessi ed estremamente importanti ecco sia da un punto di vista creativo produttivo di impatto sulla sulla nostra società anche da un punto di vista da un punto di vista più etico ecco o perlomeno progettualmente etico diciamo così e il secondo il secondo aspetto è che inevitabilmente questa sera non siamo riusciti come dire a essere esaustivi su un tema probabilmente non lo volevamo nemmeno essere e probabilmente non è il momento per esserlo quello che penso e spero insomma abbia funzionato è aver creato ecco un germe di dialogo possibile e in questo senso ringrazio tantissimo sia Stefano Torelli che Silvia Montanari insomma per per essersi disponibili ecco a questo a questo dialogo e ringrazio anche Emilio Bavarella per essere stato qui con noi e ringrazio Martina Lodi e tutto e tutto Arter e e vi do l'appuntamento a domani insomma sempre alle sei e mezza a domani